Presidente D'Apozzo, riparte una nuova edizione di Futur Forum, quali sono gli obiettivi che volete perseguire? Quarta edizione, gli obiettivi sono quelli che ci siamo prefissati fin dalla prima edizione, parlare di futuro, di scenari, di evoluzione nel mondo dell'economia, del welfare, dei centri urbani, non focalizzare agli ieri o agli oggi, ma cercare di interpretare il domani, soprattutto in relazione a quello che sta succedendo intorno a noi, non solo in Italia, non solo in Europa, ma ormai a livello globale. Chiediamo a tutti gli ospiti del Futur Forum qual è secondo loro la parola del futuro? Qual è secondo lei la parola del futuro? Quest'anno la parola del futuro è ripartire, ripartire ha un doppio senso, ripartire nel senso di far crescere, in questo caso si parla di economia, ma anche ripartire di riattribuire compiti e responsabilità, ma soprattutto anche creare una società più giusta dove ci sia una ripartizione di lavoro, di ricchezza in un paese come l'Italia che in questo momento soffre di questi deficit.